Dopo avervi registrato un video sui migliori acquisti che ho fatto l'anno scorso e sui migliori acquisti sempre dell'anno scorso ma a tema moda che vi lascio ovviamente qui nelle schede se ve li siete persi oggi sono qui per registrarvi i peggiori acquisti che ho fatto l'anno scorso prima però mi raccomando lascia un like e iscriviti al canale e se non l'hai ancora fatto attiva la campanellina per non perderti tutti i prossimi video e ora sigla! Prima di iniziare voglio fare una piccolissima premessa questi sono acquisti che io ho fatto l'anno scorso e con cui io personalmente non mi ci sono trovata bene quindi è solamente la mia opinione e voi invece potreste trovarvi benissimo con queste cose il primo peggiore acquisto è questa cover di Bershka all'apparenza sembra una normalissima cover e anche molto molto carina ed è proprio per questo che io l'ho acquistata in sé la cover è davvero carina e fatta bene anche perché ha questo strato qui super morbido e è questo che mi piaceva un sacco della cover il fatto è che questa cover qui nel giro di due giorni sia praticamente sporcata tutta magari in telecamera non renderà assolutamente ma vi assicuro come vedete qui tipo è tutta sporca perché fa parte di quelle cover proprio che voi utilizzate tipo due giorni e sono già appunto sporchissime ovviamente dipende anche dal prezzo infatti è una cover che ho pagato poco e quindi ci sta però non proprio dopo due giorni diciamo quindi niente sono rimasta molto delusa e questo è quanto altro peggior acquisto sono questi sandali qui all'apparenza anche loro stupendi e in realtà lo sono davvero sono dei sandali di Shane e sono in realtà veramente molto molto carini perché hanno tutti questi laccetti che vanno ad entracciarsi sulla caviglia e questa è una cosa molto bella l'unica cosa che mi fa metterli in questa lista nera è questa parte qui davanti questo cinturino qui che c'è davanti perché è molto molto stretto e a quanto ho capito non è solamente una mia opinione perché ho sentito molte altre ragazze che si sono lamentate di questo appunto quindi questi sandali sono bellissimi, perfetti tranne per questo dettaglio qui praticamente voi inserite il piede e questo vi fa malissimo da subito non è una question di taglia sbagliata né niente è proprio questo che è molto molto stretto spero di poter aggiustare questa cosa perché veramente io non vedo l'ora di rimetterli quest'estate prossimo peggiore acquisto è questo qui che è diciamo un primer ciglia di Essence allora come vi ho già detto questa è la mia opinione voi invece potreste trovarvi benissimo con questo prodotto anzi se magari avete provato queste cose fatemelo sapere giù nei commenti perché appunto cerchiamo di capire se abbiamo diverse opinioni oppure no in ogni caso è praticamente quella sorta di mascara bianco come vedete che va messo prima del mascara nero in modo da allungare le ciglia e dare volume il fatto è che io questa cosa non l'ho vista sulle mie ciglia l'ho provato anche per un bel po' però quando poi andavo a mettere il mascara non vedevo questa lunghezza questo volume in più che dice di dare quindi non lo so magari sbagliavo io ad applicarlo non ne ho idea se voi lo sapete appunto fatemelo sapere giù nei commenti quindi questo prodotto è in questo video perché appunto secondo me non fa quello che promette prossimo peggiore acquisto ma questa forse è un po' colpa mia è questo treppiedi qui questo l'ho comprato proprio all'inizio della mia carriera qui su youtube e su tutti i social e l'ho comprato da tiger ovviamente si sa che i prodotti di tiger costano pochissimo però io ovviamente all'inizio cercavo solamente un mini treppiedi vi devo dire se appunto non dovete farci granché ci può anche stare se volete iniziare a fare video qui sui social, su youtube, tiktok eccetera non ve lo consiglio cioè prendete un treppiedi, una ring light, un cavalletto insomma quello che volete però che sia valido quindi magari spendeteci un po' di più se ovviamente la cosa vi interessa molto però almeno sapete che vi durerà un po' di più perché dico questo? perché oltre al fatto che questo è davvero difficile da alzare e voi qui ci dovete appoggiare il telefono quindi ogni volta è un casino per farci stare il telefono in più si è rotto e si è rotto dopo in realtà pochissimo tempo cioè appunto se non dovete farci granché è perfetto se invece volete creare video, creare contenuti sui social non ve lo consiglio spendete un pochino di più ma sapete che avete un prodotto un po' più valido prossimo acquisto di cui mi pento tra virgolette sono i mocassini allora ho voluto un sacco i mocassini l'anno scorso perché erano un trend del momento e vi dico che mi piacciono ancora tantissimo e continuerò ad utilizzarli anzi continuo tuttora a utilizzarli l'unica pecca è che secondo me tutti i mocassini hanno che qui dietro fanno molto 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 male perché è proprio la struttura del mocassino che fa in modo che questa parte qui sia molto dura che quindi voi quando camminate un sacco di tempo vi fa malissimo quindi questa è veramente l'unica pecca non c'entra niente questo mocassino nello specifico tutti i mocassini in realtà sono molto molto duri e compatti perché è proprio la struttura della scarpa e quindi di conseguenza vanno a fare male dietro non sono nelle prime e nelle ultime scarpe che fanno male dietro però ecco volevo inserirle in questo video comunque sappiate che io continuerò ad utilizzarli magari ci metterò qui qualcosina di morbido in modo a poterle utilizzare un po' di più infine ultimo peggior acquisto dell'anno scorso è questo detergente solido allora fermi lì vi spiego il perché innanzitutto apprezzo un sacco l'iniziativa di creare questi prodotti solidi per ovviamente lo spreco della plastica per l'inquinamento eccetera quindi sono assolutamente a favore di questi prodotti non fraintendetemi però io mi ci sono trovata un po' male cosa vuol dire? che preferisco utilizzare i detergenti liquidi c'è da dire anche che ho sentito in realtà molte opinioni diverse dalla mia quindi molte persone si sono trovate benissimo con questi prodotti quindi ben venga io anzi vi dico di utilizzarli di provarli almeno una volta e vedere se appunto vi piacciono oppure no io avevo già provato questo prodotto una volta tra l'altro in un video vecchissimo qui su youtube magari proverò a darci un'altra chance tra l'altro questo qui l'ho trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso perché appunto quello che avevo acquistato io l'avevo finito poi però ecco magari posso provare a darci un'altra chance ma continuo a preferire i detergenti liquidi questo era tutto per questo video qui fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri peggiori acquisti dell'anno scorso perché io e voi siamo molto curiosi su queste cose vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao ciao